Ciao, sono Antonio da GuideConsole.it Sì, vabbè, ma non è che uno ti dà la camera su una nodale la prima cosa che fai è arrivi e cari il tuo link in camera, non si può, no? Allora, dovrete capito che Antonio possiede un sito che si chiama GuideConsole.it però è qua per un motivo speciale, perché lui è il primo studente di una scuola online che si chiama... Nano da School Allora, sto andando da School, che cos'è? Che cosa hai fatto? Glielo spieghi? Ho conosciuto Ryuichi Eh, io? Sì, proprio... Stai parlando di me? Ok E mi ha fatto delle lezioni sul web, mi ha spiegato tutte le basi e anche le cose fondamentali per poter aprire un sito che abbia anche un po' di successo Un po' di successo? Allora, perché ha successo questo sito? Certo, spiegami un attimo i parametri perché loro non lo sanno, perché vogliono saperlo Deve avere visibilità, deve essere... Cioè, la gente deve riuscire a trovarlo E ci deve essere anche gente che entra, ci deve essere utenza Ho capito, quindi tu volevi creare... In una sorta di community Ah, tu volevi creare un sito che avesse tanti visitatori che ti permettesse di essere un po' conosciuto e di guadagnare? Anche guadagnare Anche guadagnare, ok, perché nessuno fa niente gratis Allora, no, visto che nessuno fa niente gratis, Luigi ti ha fatto pagare per fare questa cosa? No No, non ti ha fatto pagare il rettino, Luigi Ah sì E in cambio cosa ti ha chiesto? Mi ha chiesto delle recensioni per il suo sito, per nanota.com Ah, quindi mi stai dicendo che c'è una scuola dove Luigi ti insegna a fare un sito web gratis E in cambio tu gli iscrivi le recensioni, è un sito web che ti fa guadagnare? Sì Diga sta cosa, ma senti un po', perché io avrai anche il bel faccino, ma non so se loro ti credono Quante visite fa il tuo sito? Cinque mila in un mese Cinque mila in un mese? Da quanto hai aperto? Già solo tre settimane Tre settimane hai già fatto cinque mila visite? Sì E pagine viste? Undicimila pagine viste Voi gli credete? Ma senti un po', se io adesso ti chiedo di aprire Analytics se glielo facciamo vedere insieme Per me non c'è nessun problema Ok Non abbiamo niente da nascondere Andiamo a vedere Come puoi vedere adesso è comparso Analytics Cioè, io anch'io sono rimasto sorpreso perché non mi aspettavo questi risultati Però, come ho detto prima appunto cinque mila visitatori in solo le tre settimane Che è aperto davvero da poco E... e... undicimila pagine viste Cioè, io all'inizio non ci potevo credere Va bene, senti figo, ok, tu te la sei un po' tirata Ma vedi Luigi quello che sta seduto là in fondo, no? E anche lui vorrebbe fare il suo sito, fare i visitatori come te Possibilmente farlo gratis E come fa? Eh, per ora basta aspettare anche perché Luigi sta aprendo uno spazio nel web chiamato appunto Nanoda School Dove farà queste lezioni gratis online Gratis, tutto online? Cioè, quindi ti basta essere seduto da casa con il tuo computer le cuffiette, no? E fai... bello sta cosa, io non ho capito perché ma... E in cambio ti chiederà qualcosa presumo, no? Sì, ti chiederà delle recensioni per Nanoda.com Ah, quindi ti basta fare questo Va bene, è interessante questo progetto Me lo segno questo rivici, non lo conosco Però, insomma, potrebbe essere una buona idea Ascolta, visto che sei qui, la pubblicità te la sei fatta Potresti anche approfittare e chiedere a Fabiuzzo lì che sta seduto là in fondo, anche Ilaria Gli potresti chiedere un attimo qualcosa riguardo il tuo sito Una domanda solo però, vai giocatela bene Vorrei chiederti semplicemente di entrare e darmi un tuo parere per sapere cosa ne pensi Ok, quindi lo ripeti dove sta il tuo sito? www.guideconsole.it Ok, allora ti aspettiamo tutti e due su www.guideconsole.it e su una notte Ciao, alla prossima! Ciao!